e sono qui dopo che si è concluso la partita la stanza tirata siamo qui con i conessi per Luzzoni e iniziamo e va beh era soltanto per cambiare un attimo comunque iniziamo subito con un breve riassunto sulla partita è stata una partita divertente per quelli che hanno visto da fuori sono tanti i gol abbiamo vinto meritatamente credo è stata bene siamo ucciti in città penso con merito anche se abbiamo lottato e loro hanno una buona squadra la prossima controchè che giochiamo? la prossima non lo so controchè che giochiamo? Strogio che l'andata avevamo forse perso credo di una e niente speriamo di andare in via speriamo in via ok ragazzi buongiorno per le prossime e andate sempre di bene in via speriamo grazie 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 a tutti